Importante successo a Casanigo per la palacanestro Viola che conquiste così la prima vittoria stagionale in casa contro un'ottima Barcellona. Tanti dettagli da rivedere comunque, specialmente in fase difensiva, segnalati nella conferenza stampa post-gara dal tecnico Federico Cigarini che non condivide il rilassamento finale del team, pronto a pretendere il massimo da un giovane gruppo che conquista comunque la terza vittoria in quattro gare disputate. Partita tiratissima. Reggio parte bene con i primi canestri ufficiali al palacalafiore di Illy a Tirtishnik. L'Ucraino gioca al top anche se la verve di Indelicato e soprattutto di Fernandez non è arrendevole. 25-16 nel primo quarto. Nella secondo gli ospiti, accompagnati da una buona cornice di pubblico, colpiscono con la Fernandez, sorpassano l'avversario e volano in vantaggio. La gara ha tanti volti. Aguzzoli è il più vispo dei locali. Binelli commette troppo presto il quarto personale. Si va alla 42-47 nell'intervallo lungo. Nel terzo quarto qualcosa cambia. Coach Cigarini carica i suoi che recuperano un canestro dopo l'altro con Aguzzoli migliori in campo, seguito a rota da Simonetti. Il break è devastante. Più 7 è il termine del terzo quarto che si amplifica nel quarto raggiungendo 89-71. Ma Barcellona è viva e prova a recuperare quasi lo svantaggio, arrivando sul meno 6. Ma è troppo tardi. I nero e arancio vincono ed abbracciano il pubblico amico.